Importante gesto a Pasqua all'ospedale Sant'Elia, l'Avis di Caltanissetta ha infatti donato 5 uova di Pasqua con i colori della bandiera ucraina ai bimbi ricoverati nel reparto di pediatria a Sant'Elia. L'iniziativa è stata subito accolta dal direttore di presidio Benedetto Trobbia e dal direttore del reparto di pediatria dove attualmente sono ricoverati 5 piccoli pazienti, Giovanni Chiara. I nostri piccoli pazienti e i loro genitori, ha detto Trobbia, non hanno potuto festeggiare la Pasqua a casa con i loro familiari e ci sembrava il minimo far sentire loro tutta la nostra vicinanza. I bambini erano felici della sorpresa e noi siamo lieti di continuare il nostro percorso all'insegna dell'umanizzazione delle cure. L'obiettivo è far sì che i nostri pazienti, dai più piccoli ai più grandi, non si sentano mai soli. E Pasqua è uno di quei giorni in cui ogni bambino non vede l'ora di scartare il suo uovo. È stata veramente una festa al reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Elia.